La mia infanzia spensierata è finita in un momento preciso che ricordo nitidamente. Era il 1984, avevo otto anni ed era ora di pranzo. Ero appena uscito dall'ospedale di Pordenone con mia mamma ed ero super affamato. Siamo entrati in un bar e appena entrati ho visto questa fila di panini buonissimi nella vetrina. E così ho chiesto a mia mamma se poteva avere un panino con il prosciutto crudo. E lei, l'ho notato subito, ha cominciato a guardare tutti i cartellini dei prezzi, dei panini, e poi mi ha chiesto sei sicuro che non ne vuoi uno con il prosciutto cotto? Io devo avere un po' insistito, però poi ho visto lo sguardo di mia mamma mentre preoccupata frugava nella borsa alla ricerca del portafoglio. E lì, in quel preciso istante, ho capito due cose fondamentali e ho preso due fondamentali decisioni. La prima, quel giorno, avrei mangiato un panino con il prosciutto cotto. E la seconda è che non avrei mai più chiesto niente di non necessario ai miei genitori. Facciamo un salto in avanti. 2014, 30 anni dopo, non più Pordenone, ma Roma. Avevo 38 anni e sentivo di aver raggiunto tutto quello che desideravo. Mi mantenevo scrivendo film e serie televisive, vivevo in una delle città più belle del mondo e avevo un bel po' di soldi in tasca. Che cosa volere di più? Niente. Il problema però era che alla mattina mi svegliavo e non volevo affrontare la giornata. E così vomitavo. C'era qualcosa che non andava. Non ero felice. E il problema era che non riuscivo a capire la natura di quel malessere. Sin da piccolo le storie mi hanno affascinato e sapevo che un giorno raccontarle sarebbe diventato il mio lavoro. E così ho cominciato a studiarle. Ci sono moltissime teorie sullo storytelling, ma se volessimo sintetizzare potremmo dire che raccontiamo sempre e solo la stessa storia. Eh sì, perché tutte le storie hanno di fatto lo stesso andamento. Questo. Ogni volta che raccontiamo una storia raccontiamo di un protagonista che vive nel suo mondo ordinario. Possiamo dire che sopravvive più o meno felice. Poi a un certo punto succede qualcosa. Sua moglie lo lascia, vince 100 milioni alla lotteria o magari assiste ad un omicidio. Insomma qualcosa che potenzialmente può cambiargli la vita. E a quel punto entra in un mondo che possiamo definire sconosciuto. E all'interno di questo mondo, dove inizia la sua avventura, incontra mentori, amori, antagonisti. E sale questa montagna fino ad arrivare in cima. Il midpoint, la falsa vittoria. Qui il protagonista si convince di aver raggiunto il suo obiettivo. Ma la verità è che questo è il punto che precede la catastrofe. Da qui in avanti, infatti, l'antagonista prende letteralmente a calci il nostro protagonista, fino a farlo ruzzolare giù dalla montagna e fino a farlo arrivare in questa buca che ha un nome terrificante, il punto di morte. Questo è il momento dove di solito tutto sembra perduto. Ma la verità è che se siamo di fronte ad una storia ben raccontata, questo è anche il momento nel quale il protagonista si volta indietro, si rende conto di quello che ha fatto durante questa storia, durante questa avventura in questo mondo sconosciuto, quello che ha imparato e a quel punto si rialza pronto ad affrontare la sua battaglia finale, il suo vero obiettivo. Sì, perché tutte le storie hanno un obiettivo. E sapete qual è l'obiettivo di ogni storia? Il cambiamento. E sì, perché ogni protagonista, all'inizio della storia, ha quello che viene definito un fatal flow, una ferita, e affrontando i propri demoni riesce a curarla quella ferita. E se ci riesce, quando ci riesce, torna al suo mondo ordinario, finalmente in pace con se stesso, finalmente felice. Bello, no? Eh sì, lo è. Le storie ci affascinano da sempre e da sempre non possiamo farne a meno, perché le storie ci parlano di noi, di chi siamo, e soprattutto ci danno la forza di cambiare, o almeno di provare a farlo. Le storie sono come la vita. E adesso vorrei fare un piccolo esperimento. Prendiamo lo schema che abbiamo imparato a conoscere e proviamo a sostituire ai minuti di un film o alle pagine di un romanzo gli anni di una vita. E vedrete che alla fine i conti tornano allo stesso modo. O almeno così è successo per me. E ora ve lo racconto. I primi vent'anni della mia vita, il mio mondo ordinario, li ho passati in Friuli, leggendo centinaia di libri durante gli anni della scuola e poi lavorando sei giorni su sette dopo le superiori. e poi il mio incidente scatenante. Nel mio caso un vero e proprio incidente in macchina. E così quando la mia macchina è atterrata in un campo e ho capito che sarebbe potuto andare veramente molto molto peggio, mi sono chiesto ma se fossi morto adesso saresti morto felice? E la risposta scontata è stata no. Quindi contro tutto e tutti lascio il Friuli e vado a studiare prima a Torino e poi a Roma. E piano piano salgo quella montagna e arrivo fino al mio midpoint, alla mia falsa vittoria. Vi ricordate quando vi ho detto che ogni personaggio ha un suo fatal flow, ha una sua ferita? Ecco per me quella ferita probabilmente erano i soldi. Avevo paura di non averne mai abbastanza e avevo paura che senza i soldi la mia vita non sarebbe stata vissuta al massimo. Insomma c'ero riuscito, ero in cima alla montagna ed ero addirittura riuscito a comprare una casa ai miei genitori per ringraziarli di tutti i sacrifici che avevano fatto per crescere cinque figli. Ma ve l'ho già detto, non ero felice. I conti non tornavano per la mia vita, eppure tornavano perfettamente per le regole dello storytelling. E così poco prima di compiere 40 anni cominciano gli schiaffi in faccia. Le serie tv che scrivo sono degli insuccessi. Uno dei miei migliori amici muore in un attentato. Mio padre, malato da tempo, ci lascia. E poco dopo, all'improvviso, mia mamma lo segue. Prendo un sacco di decisioni sbagliate e perdo tutti i miei soldi e mi ritrovo anche pieno di debiti. Arrivo a perdere anche la casa che avevo regalato i miei genitori. E poi, se tutto questo non bastasse, scoppia anche una pandemia globale. E che succede a questo punto? Succede una cosa abbastanza incredibile. Che mi ritrovo felice come non sono mai stato prima in vita mia. Ma com'è possibile? Cioè non ho neanche i soldi per fare la spesa, neanche per comprarmi quel panino, quel prosciutto crudo per intenderci. E allora come faccio ad essere così in pace con me stesso, così sereno? E qui, per provare a capirci qualcosa di più, dobbiamo fare un altro salto e questa volta addirittura fino in Giappone. Leggere è sempre stata la mia grande passione, ve l'ho già detto. Una passione che non mi ha mai abbandonato, nemmeno nei momenti peggiori. E proprio in uno di questi momenti, dentro a un libro che mi aveva regalato mia moglie, che parlava di tutt'altro, faccio una scoperta importante. Le dieci icone del bue. Non so se sapete che cosa sono, io non lo sapevo. Io ho cominciato a studiare tutto quello che c'era e così ho scoperto che queste dieci icone rappresentano un cammino zen verso l'illuminazione, verso la felicità. E queste icone hanno cominciato ad ossessionarmi. Arrivo a stamparle e ad appenderle su una parete e ogni sera mentre mi lavo i denti le fisso, in attesa di una qualche risposta. E comincio a pensare che forse c'è un parallelismo tra queste dieci icone e la montagna delle storie che abbiamo visto poco fa. E in effetti le cose tornano almeno per le prime cinque icone. Infatti anche qui abbiamo qualcuno che sta nel suo mondo ordinario. Poi l'incidente scatenante, succede qualcosa, vede le tracce del bue e poi decide di entrare in questo mondo sconosciuto, alla ricerca di questo bue. Lo trova, combatte e finalmente arriva al midpoint, alla falsa vittoria. In quel momento riesce a catturare il bue. Ma qui finisce il parallelismo perché, come vedete, dopo il midpoint è il momento in cui cominciano i calci dove dovremmo ruzzolare giù per la montagna e invece le icone continuano, vanno verso l'alto. E così ogni sera continuavo a fissare queste icone, mentre mi lavavo i denti, continuavo ad aspettare questa illuminazione e alla fine, dopo molto tempo, è arrivata. E la verità è questa, è che mentre la nostra vita ci prende a calci in faccia, mentre scendiamo verso il punto di morte, in realtà stiamo andando verso l'alto, stiamo crescendo, perché questi calci ci stanno facendo capire da che parte sta la felicità. Tutte queste prove ci stanno insegnando dov'è la vera felicità. Già, e dov'è? È dentro di noi. Inutile cercarla fuori. Inutile, nel mio caso, inseguire successo e soldi per placare quella ferita di quel bambino che voleva quel panino con il prosciutto crudo. E questa verità, che la felicità è dentro di noi, me ne rendo conto, è banale ed è irricevibile a livello razionale. E questo perché? Perché noi siamo stati abituati, sin da piccoli, a cercare di arrivare, ottenere, costruire, tutto fuori da noi. Costruire, 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 e solo dopo aver costruito per molto tempo, finalmente saremmo arrivati alla felicità. Beh, non è così. Ci insegnano a girare il mondo inutilmente quando tutto quello di cui abbiamo bisogno è a meno di un centimetro da noi. A questo punto immagino che vi starete chiedendo, ma quindi per andare incontro alla felicità dobbiamo aspettare di prendere una serie di calci in faccia dalla vita? Beh, no, non dovrebbe essere così. Se solo qualcuno ci insegnasse due piccole cose, la prima che la felicità esiste e la seconda che dobbiamo cercarla dentro di noi e non fuori. Se ignoriamo queste due verità, allora sì la vita si impegna per prenderci a calci in faccia e farci andare verso quella direzione. Allora, arrivato a questo punto, mi sono chiesto due cose. Che cosa sarebbe stato di quel bambino di otto anni che ero se avessi saputo queste verità? E cosa sarebbe stato di quel trentottenne che pensava di avere tutto ma alla fine la mattina si svegliava e vomitava? E così ho cominciato a ragionare. Possibile che tutte le azioni che facciamo nella nostra vita mirino alla felicità? Cioè è letteralmente l'obiettivo unico di tutti gli abitanti del pianeta? Ma a scuola questa non è la materia principale di insegnamento? Non vi sembra un paradosso? E allora partendo da questo ragionamento ho cominciato a studiare e ho scoperto un sacco di cose. Ad esempio che tutto quello che i bambini imparano da 0 a 7 anni rimarrà con loro per sempre, per tutta la loro vita. E ho scoperto anche che a scuola oggi si studiano materie per lavori che fra dieci anni non esisteranno più. E ancora ho scoperto che le skills più importanti nel futuro dei giovani saranno creatività, curiosità ed empatia. Più andavo avanti e più mi rendevo conto che probabilmente la scuola di oggi non ti insegna le materie giuste per provare a vivere bene. E allora mi sono chiesto pensa se esistesse una scuola che sin da piccolissimo ti insegna ad essere felice e che magari ti insegna a raccontare una storia e che ti insegna che cos'è la creatività, la compassione, l'empatia, la gratitudine, la noia, l'ozio. Tutte materie fondamentali al giorno d'oggi in un mondo in continuo cambiamento. E queste materie non devono andare a sostituire quelle esistenti ma devono semplicemente integrare il piano di studi. E poi i ragionamenti non si sono fermati qui perché poi ho pensato, pensa se all'inizio questa scuola fosse online e in tutte le lingue del mondo e soprattutto gratuita. E poi ho continuato e ho pensato ci saranno dei moduli da poter distribuire tutte le scuole esistenti. E ancora dopo questo punto forse avremo la prima scuola fisica e poi la seconda e poi la terza e chissà. E poi al culmine di tutti questi ragionamenti una piccola folgorazione. Ma se fossi io a provare ad aprirla questa scuola? Se fosse questo il terzo atto della mia vita? Beh, non ho risposte, anzi ho solo un sacco di domande, però ho anche tanta voglia di studiare, ricercare, girare il mondo per trovare questi maestri, i migliori possibili per insegnare queste materie e per dare vita a questo progetto. Ripeto, non ho risposte, solo tantissime domande, però ho una consapevolezza che la mattina mi sveglio e non vomito più. Adesso non ho più paura di dire, di dirmi che sono felice. Sì, lo so, probabilmente la felicità non si può insegnare. Quello che possiamo fare forse è provare ad indicare una via, un sentiero che ti porta magari dove c'è qualche probabilità in più di trovarla. Grazie e siate felici!